E ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video Come ho fatto sempre sono su questa schermata perché si ieri ero allo stadio Ho fatto un gran ritorno allo stadio infatti non c'entavo da Bari e Brescia che non ho pubblicato niente Purtroppo perché non avevo la disponibilità Se non ero l'ultima partita allo stadio che ho pubblicato è stato a Bari e Cittadella Anche l'ha finita 1 a 1 Ieri ero andato allo stadio con Lucas, Itwil Centrone, SamuFixGamer e Cocco ragazzi Ma adesso vi faccio un'analisi di questa partita Il primo tempo l'abbiamo giocato solo noi infatti abbiamo trovato il vantaggio con Mandy Durval Perché si ragazzi abbiamo giocato benissimo il primo tempo Come sempre, come quasi, come tutte le partite Praticamente come le ultime quattro partite ci siamo andati in vantaggio nei primi 45 minuti Ma sempre come ogni partita nel secondo tempo smettiamo di giocare e ci facciamo fare gol Infatti dal 45esimo al 60esimo abbiamo continuato ad attaccare sprecando varie occasioni Con Sibilli mannaggiatte che si è mangiato due gol Uno nel primo tempo, uno nel secondo tempo A tu per tu col portiere Poi un altro che ha tirato che uno ha fatto il salvataggio sulla linea Mamma mia ragazzi Questa partita ce la potevamo portare a casa benissimo Ma dal 65esimo slash 70esimo in poi Non abbiamo più attaccato Hanno avuto la palla solo loro E infatti poi ci hanno pareggiato con Pietro Iemmello Diciamo pareggio meritato Sì ma noi abbiamo avuto più occasioni di loro E potevamo di certo spuntarla Andiamo a vedere le statistiche Infatti vedete le statistiche si riferiscono praticamente dal 60esimo in poi Perché poi alla fine Sì dal 60esimo in poi Perché prima del 60esimo abbiamo giocato solo noi E ora andiamo a vedere la situazione in classifica Siamo settimi a pari merito con la Cremonese Ma abbiamo giocato solo noi Quindi attenzione potremmo già uscire dalla zona playoff per ora Ma la prossima partita è contro Spezia alla Spezia Speriamo di vincere Perché se vince il Bari Alla Spezia Molto probabilmente vado a vedere anche Bari-Reggiano Che è la prossima partita in casa dal Bari Quindi ragazzi Se mi volete vedere allo stadio anche a Bari-Reggiano Lasciate like Iscrivetevi al canale E ora vi faccio vedere le clip allo stadio Ciao Ciao Per il pari, atti il numero re San Nicola, ci pensa lui, con il numero 93, Vedi, Torval, 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 dai ragazzi del giro!